L'approccio sbagliato, un errore da non ripetere. Alla vigilia del match casalingo contro il Crotone, Luciano Zauri torna ad analizzare la sconfitta di Cittadella di martedì, che è ancora fresca nella mente di giocatori, tecnico e tifosi del Pescara. Un'analisi che poi si allarga su quello che è stato l'inizio di stagione del Delfino. L'obiettivo ovviamente è migliorarsi, ma servono tempo e partite. Noi abbiamo giocato, secondo me, bene per lunghi tratti, male quando bisognava non prendere gole, purtroppo l'abbiamo preso. Ma anche al discorso di prima, questi ragazzi giocano assieme da un mese, la squadra è per me di dare innovata. Io, ma credo chiunque, non ha la bacchetta magica. Quando tu hai dei ragazzi giovani che giocano assieme da poco, tanti si affacciano, allenatore compreso, una categoria. Adesso, credo che sia una cosa normale. Poi, ripeto, tutto è migliorabile, io sono il primo che fa autocritica, ci mancherebbe altro, però credo che siamo in linea con quello che bisogna fare. Non dobbiamo vincere tutte noi, non abbiamo la capacità di poterlo fare. Dobbiamo migliorare? Assolutamente sì. I limiti siamo qua apposta per migliorarli. È chiaro, se chiediamo oggi tutto, faremo un errore, secondo me, e metteremo in difficoltà i ragazzi, perché poi chiaramente non si può pretendere cose che in questo momento non possono fare. Se abbiamo un po' di pazienza, magari ci arriveremo. Certo, la lista degli infortunati è un ostacolo in più, è quello di Balzano, lesione parziale del crociato sinistro, rischia di aggiungersi a quello di Tuminello per la lunga durata, senza dimenticare i tanti acciacchi di medio periodo. Balzano, che va ad aggiungersi agli assenti di Cittadella, nessuno dei quali recupera, ad eccezione di Cisco, fortemente indiziato per un posto nel tridente titolare. È un giocatore che ha gamba, quindi sicuramente quando è entrato anche in casa ha fatto vedere quello che può fare. È uno di quelli che può iniziare, sì. Il match col Crotone in combe, domani sera ore 21, con la direzione di gara di Prontera di Bologna. Ballottaggio a destra, Zappa Vitturini. Memusciai tornerà dal primo minuto con Macin e Castanos. Magnero in vantaggio su Brunori. Nel Crotone, Out Cuomo, Curado, Spolli e Zak. Zauri presenta così gli avversari. È una squadra solida, appunto, alterna le due fasi, l'aggressione alta, a volte meno alta. È chiaro che entrambe le soluzioni possono essere attaccabili. Dal pressing ultraoffensivo se ne esce con la qualità o con giocate magari diverse. Quando ti aspettano, chiaramente la difficoltà potrà essere quella delle loro ripartenze. Quindi quando si abbasseranno un po' di più dovremmo essere noi ancora più bravi a sviluppare le nostre situazioni per cercare di incidere e di fargli male. Abbiamo le nostre armi, quindi è chiaro che proveremo a fare la nostra partita e Crotone permettendo.